Hunger Games di Susan Collins Mi è piaciuto molto leggere il libro e immaginare il pita dei film o Gale o Effie. Il libro è indubbiamente ben scritto e di certo il passato di sceneggiatrice della Collins ha avuto il suo ruolo. L'aspetto tuttavia che mi è piaciuto di più è stato il dialogo di Katniss, le montagne russe emotive che ognuno di noi affronta in situazioni particolari e sotto pressione. Katniss non è una supereroina, è una ragazza impulsiva dotata di capacità peculiari con un carattere spigoloso. Non ama i sentalismi e nemmeno i sentimenti a dire il vero. Rifiuta qualunque cosa non sia legata alla mera sopravvivenza, ma questo, a Hunger Games, non è ben visto, per cui deve adattarsi. Come non in reality non importa quanto tu sia bravo, devi piacere anche al pubblico a casa. E Katniss, nonostante le sue rigidità, piace. Pita, se dovessimo cercare un eroe sarebbe lui. Innamorato da sempre di Katniss, cerca di proteggerla e aiutarla, anche se lei non crede alla sua bona fede. È un ragazzo primuroso, leale e almeno apparentemente sincero. Katniss però non si fida.